E' il 26 maggio 2018 a Mantua e Just a Few Images è all'Archit Home. Siamo con Giada J. Detro, voce e cori nella Power Metal Band italiana Frozen Crown. Ciao Giada, come stai? Ciao ragazzi, benissimo, sono elettrizzata perché tra poco ci esibiremo qui alla Millady Metal Fest 2018. Siamo veramente contenti, abbiamo fatto tanta strada per venire perché come sapete veniamo da diverse parti d'Italia. Siamo dipanati tra Torino, Varese e Venezia e siamo contentissimi. Sarà un piacere per noi già aver cominciato a condividere il backstage con band, amici, conoscenti. In più condividere poi il palco anche con band che seguiamo come spettatori, come i Salar D'Army. Per cui siamo contentissimi di essere qua, entusiasti. Ed è una bella giornata, c'è tantissimo caldo. Finalmente l'estate sta cominciando e c'è già una buonissima affluenza comunque. Per cui siamo estremamente positivi sulla riuscita del tutto e siamo contentissimi di poter presentare al meglio il nostro lavoro. The Fallen King che è uscito a febbraio e di cui siamo molto contenti. Soprattutto non vediamo l'ora di cominciare a mostrarlo, a portarlo fuori. Che dire. Siamo contenti, vi aspettiamo. Grazie a Giustatio Image per questa mini partecipazione. E un abbraccio da Giada di Frozen Crown. Grazie.